Oggi ho ben due licenze di Windows 10 Professional da piazzare Se questa promo ti interessa, non devi fare altro che ascoltare il regolamento dopo la sigla Ma mi raccomando, visto che ci sei, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto E butta like Il like tanto è gratis, non ti costa nulla e a me rende tanto felice Se adesso l'hai fatto, mi raccomando, goditi la sigla Benvenuti dal vostro Anaro Sensei Oggi in modalità Invisalign Infatti ho l'apparecchio di denti e non me lo sono tolto Quindi mi sentirete fischiare o parlare in maniera strana, non fateci caso Allora, il video di oggi è dedicato a ben altre due licenze di Windows 10 Professional da regalare a due di voi E la domanda che può sorgere spontanea è Ma caro mio adorato Anaro Ci hai appena regalato tre licenze in questi ultimi video Da dove le tiri fuori tutte queste mega licenze introvabili, potentissime? Beh, la risposta è molto molto semplice Infatti, il video che avevo fatto dedicato, grazie a casefun.com e il mio sponsor che mi aveva regalato ben tre chiavi di Windows 10 Avevo creato un giveaway per gli 11.000 iscritti E bastava semplicemente mettere un like e commentare sotto al mio video Spiegando qual era il mio video preferito che vi ha colpito di più Grazie a questo fantastico contest in realtà è stato veramente fondamentale scoprire quali sono i vostri gusti Infatti, adesso cercherò di reindirizzare il mio canale verso ciò che vi piace di più Perciò, grazie, è stato assolutamente molto utile Oltre a questa piccola cosettina La verità è che il video secondario che ho fatto successivamente In cui ho elencato i tre vincitori Ebbene, due di loro hanno rifiutato la licenza Anche qui, la prima domanda che il vostro cervello potrebbe fare è Ma come si fa a rifiutare una licenza regalata? La risposta è davvero molto semplice Infatti, il mitico Stefano Tosti, uno dei vincitori Mi ha scritto in privato dicendomi Caronaro, io ho un computer con Windows 11 legalmente registrato Perciò, a conti fatti, non mi serve Io gli ho risposto Beh, comunque, la licenza l'hai vinta tu È tua di diritto La puoi o regalare a un tuo amico, a un tuo parente O addirittura anche venderla Tanto è tua Ne puoi fare ciò che vuoi Ma, essendo un signore di altri tempi Mi ha risposto Regalala a qualcuno di bisognoso E questo è ciò che farò Infatti, a una delle tante persone che continua a seguirmi E che soprattutto continua anche a rispondermi sotto i commenti di vincitori Che ricordo, il video, l'ultimo, ha veramente pochissime visualizzazioni Cioè, 350 visualizzazioni per scoprire chi è il vincitore Come se tutti quelli che hanno commentato precedentemente Avessero gettato la spugna senza neanche saperlo Perciò mi dispiace veramente tanto Ecco perché ripunto di nuovo su questo fattore E regalo altre due licenze A chi commenta sotto al mio video Questo Mette like E dovete scrivermi Realmente A me serve questa licenza Cioè Se avete veramente bisogno Scrivetemi sotto Perché tirerò fuori di nuovo a caso Uno di voi Anzi, due di voi Proprio tra questi commenti Se la matematica non è un'opinione Manca una licenza da regalare E quale sarebbe la terza? Incredibile ma vero È proprio quella che avevo regalato Al mio adorato papà Infatti Il computer Che gli ho procurato È arrivato L'ho smontato Controllato Tra l'altro Il corriere l'ha lanciato Ok Dentro il cancello Ma questi sono dettagli Fatalità È partito E funziona perfettamente Quindi si è solo ammaccato Un po' all'esterno Però funziona E ero super pronto A buttare dentro La licenza Quando ho scoperto Che all'interno Mi è arrivato Già con Un Windows 11 Professional Di serie Anche se L'avevo ordinato Senza alcun Sistema operativo Me lo sono ritrovato Installato E licenziato Perciò Ennesima volta Mi è andata male Per fargli un regalo E quindi anche questa licenza È assolutamente Disponibile Perciò Delle tre Che avevo Precedentemente Messo in palio Ne ho ben due Da regalarvi di nuovo Quindi Ripeto Se volete Partecipare E se vi serve Sul serio Questa licenza Mettete like Anzi Mettete like In ogni caso Se vedete il video Perché Il like va sempre bene Il like lo mettete E se vi interessa Sul serio Commentate sotto al video E scrivete Che vi serve E magari le motivazioni Non so Potete anche Commuovermi E prendermi per pietà In ogni caso Sappiate che Farò sempre Estrazione Stile lotto Come l'altra volta Con il generatore Quindi Qualsiasi commento Farete Sarà assolutamente Randomico Bene Penso di essermi Dilungato Anche troppo Alla fine Il contest È esattamente Come quello Dell'altra volta Voglio ringraziare Ancora Casefan.com Perché comunque Mi sta supportando Con licenze gratuite E insomma Mi fa veramente piacere E vedo che Anche voi Siete felici Quindi Li ringrazio ancora E Butto anche Alla fine del video Lo sponsor trailer Così Vi vedete Come si fa Ad acquistare Una qualsiasi licenza Magari con il mio codice sconto Che vi porta Veramente A prezzi ridicoli Ad esempio Windows 10 Costa tipo 7 euro E Perciò È Allucinante A giorno d'oggi Pensare di Crack Di Attivatori E quant'altro Che possono solo Che riempirvi di Porcheria Di possibile Malware E Rallentare il pc All'avvio C'è uno che fa Il videogiocatore E che Cerca di Sfruttare Ogni mega Necessario Avere tutti gli attivatori Che partono All'avvio Gli mangiano RAM Gli mangiano Processore Connessione Internet Per verificare Le chiavi Insomma È uno schifo Dietro l'altro Quando con 7 euro Ripeto Avete la vostra Bella licenza Se poi Per carità Non vi interessa Windows E Volete Spendere Zero La risposta È sempre Linux Trovate Tutto in descrizione Nel mio Fantastico Canale Youtube Detto questo Iscrivetevi Mettete like E ci vediamo Al prossimo video Bye bye Volevo ricordare a tutti Che questo video È stato gentilmente Offerto da Casefun.com Il mio sponsor Ufficiale Per quanto riguarda Licenze Originali Ed ufficiali Di Windows Di Office E di tantissimi altri Software Che di solito Costano veramente Un patrimonio Troverete tutto quanto In descrizione Sotto nel mio video E sotto altri miei video Da oggi Grazie al mio Codice sconto esclusivo AS50 Avrete un ulteriore 50% di sconto Su tutti quanti I prodotti Di Windows E con AS62 Un ulteriore 62% di sconto Su tutti quanti I programmi E i software Di Office Vi basterà Cliccare su uno Dei miei link Sotto in descrizione Per essere reindirizzati Ad esempio Su Windows 11 Professional K Normalmente costa 189,99 E' stato scontato A 25,96 euro Basta aggiungerlo Al carrello E andare direttamente A fare Il pagamento Se non che Prima Va applicato Il codice sconto Esattamente qui AS50 Applica Sconto E magicamente Da 25,96 euro Andrete a pagare Direttamente 12,98 euro Quindi La metà Un bellissimo Sconto Veramente Succoso Significa che Ogni licenza Un'altra È regalata Questo Lo trovate Sotto in descrizione E logicamente Dentro il sito Di casefun.com Grazie E buona continuazione